ciao a tutti benvenuti a un nuovo appuntamento con un caffè in valigeria Ambrosetti oggi il nostro ospite è Stefano ovviamente voi lo vedete per la prima volta perché di solito è lui che starà dall'altra parte della videocamera perché è il nostro videomaker adesso c'è un'operatrice nuova c'è un'operatrice nuova infatti se vedete ballare la telecamera è colpa della nostra operatrice ciao Michela ciao Michi Stefano allora tu sei un videomaker ormai affermatissimo io sono molto contento di averti qua perché ho giusto due tre domande da farti senti allora noi ci conosciamo da una vita perché ci siamo conosciuti a piccolini all'oratorio sì di Casbeno all'oratorio di Casbeno esatto e adesso invece ti ritrovo nella veste di videomaker ma cosa è successo ma è successo che il percorso professionale di ognuno è sempre molto particolare il mio è stato in maniera decisamente particolare sono partito col fare l'educatore per tanti anni educatore nel campo della disabilità e dopo ho avuto questa folgorazione sulla via di Damasco questa illuminazione grazie anche comunque al lavoro che stavo facendo precedentemente calcolando che il primo computer l'ho avuto 29 anni quindi già vecchio diciamo non sono un nativo digitale ho deciso che il computer doveva diventare il mio strumento di lavoro e uno strumento creativo e così è stato certo tu oltre a essere un bravissimo videomaker sei anche un bravissimo musicista e io tengo sempre in in testa l'unica visita che ho fatto nel tuo studio di registrazione dove oltre a vedere questi computer fantastici dove vengono montati tutti i video che facciamo e che potete vedere sul nostro canale youtube c'è anche una sala di registrazione mi sembra di entrare in una grande etichetta discografica perché tu in particolare suoni io suono la batteria la batteria non sono un musicista perché sennò i musicisti veri poi si arrabbiano però la musica è sempre stata una parte molto importante per me sia dal punto di vista formativo che dal punto di vista professionale ti vogliamo ricordare anche gli altri membri del tuo gruppo i delta membri storici siamo io alla batteria paolo carini al basso mario cuccoli e tastiere e poi ci sono questi tre giovanissimi che sono fantastici che sono entrati nel nostro gruppo da poco che sono alice clerici alla voce lorenzo gadolini alla chitarra ritmica di accompagnamento e joele mombelli alla chitarra solista ed è bellissimo che noi cinquantenni collaboriamo con persone così giovani non è vero che i giovani e joele mombelli alla chitarra solista non hanno voglia non hanno strumenti ne hanno tantissima e ti obbligano a confrontarti con un mondo che ovviamente non è più il tuo per ragioni cronologiche però è bello proprio perché c'è questa continua continuo rispetto e continua interazione tra generazioni che è bellissima senti durante le nostre interviste di un caffè in valigia in busetti io sono solito chiedere ai nostri invitati un aneddoto aneddoto musicale in 34 anni ne avrai da raccontare ma sì ma cosa più divertente che racconto sempre è quando si organizzano le prove che di solito sono un giorno determinato però può capitare che magari cambi orari cambi giornata ecco non tutti sempre si ricordano di questa cosa quindi magari telefoni dici senti ma noi siamo qua a provare tu dove sei ma io sono a mangiare le anguille a comacchio è un po lontano allora per arrivare per tempo però diciamo che comunque la musica così come il mio lavoro sono parti molto importanti della mia vita ma in senso positivo molto positivo beh certo conosci gente frequenti persone vedo gente faccio cose senti ti lascio la telecamera a tua disposizione e ovviamente puoi dire quello che vuoi ma ringraziare soprattutto sì voglio fare un ringraziamento che sembrerà un po banale ma non lo è per niente perché ovviamente quello che sono adesso dovuto essenzialmente grazie all'impegno di una persona per me è molto importante che mia moglie mia moglie Emanuela detta Lella ciao Lella che voi conoscete molto bene grazie a lei che io posso essere contento di quello che faccio non so come ringraziarti ovviamente non sarà l'ultima volta che ci vediamo spero di no vediamo com'è andata questa ripresa poi dopo decidiamo è perfetto quindi io vi saluto vi do un altro appuntamento ovviamente con stefano dietro la telecamera dietro la telecamera questa volta un caffè in valigeria ambrosetti e alla prossima ciao a tutti